E' stato approvato dall'Aggiunta Comunale di Castellabate il progetto esecutivo per i lavori di rifacimento dei marciapiedi e di manutenzione della pubblica illuminazione all'ingresso della frazione San Marco. Il progetto intende migliorare la mobilità e la sicurezza stradale di via Don Peppino Passerelli, riducendo le situazioni di pericolo e di congestione dell'ariete stradale, in un'arteria molto trafficata soprattutto nel periodo di maggiore afflusso turistico. L'importo necessario per i lavori è di circa 140.000 euro. Il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, dichiara in merito. Stiamo mettendo in campo tutte le iniziative per avviare la rapida sistemazione delle strade del nostro territorio, anche in vista dell'imminente ultimazione dei lavori di metanizzazione e della fibra ottica. Attraverso un coordinamento tra i vari interventi riusciamo ad economizzare i lavori di rifacimento del manto stradale, che andavano comunque eseguiti. In particolare, il progetto che riguarda via Passerelli a San Marco migliorerà l'ingresso della frazione, con un visibile allargamento e l'aggiunta di illuminazione a LED, nuovi marciapiedi e a redi urbani, ottimizzando sia la funzionalità che la sicurezza e l'estetica dell'area.